Grazie a Idar Kirkorn, invito a raggiungerci, ecco lo sta già facendo, l'ingegnere Paolo Dorizzi che è direttore tecnico di Arpa CEAS che già conoscete ma comunque ve la presento. Nasce nel 1990 a Milano grazie a un gruppo di ingegneri provenienti dallo studio di ingegneria Finzi Associati e dalla società di sviluppo software e analisi strutturale CEAS ed è tra i pionieri del BIM in Italia. L'intervento dell'ingegnere verte sugli strumenti di modellazione 3D nell'approccio Open BIM, quindi lascio a lei compito di spiegare cosa si intende per Open BIM. Dicevamo nella mattinata, mi diceva l'ingegnere Ferrari che lei è anche membro della commissione Uni e CEN che stanno riflettendo e valutando un rinnovo delle norme in materia di modellazione 3D e quindi di BIM e quindi a lei chiediamo anche un aggiornamento su questo lavoro. Buongiorno a tutti, rispondiamo innanzitutto sull'aggiornamento richiesto per le normative. Ci sono tre tavoli di lavoro attualmente in essere, uno è su scala a livello di ISO, un altro quindi internazionale, un altro è il tavolo del CEN per quanto riguarda le normative europee e un altro è il tavolo italiano con la revisione e la reimpostazione della Uni 11337. Tutti e tre questi tavoli pur avendo dei titoli diciamo leggermente diversi ma in grosso modo si stanno orientando verso la scrittura di una proposta di standard per il processo di tipo BIM. Direi che il denominatore comune per quello che posso vedere ora adesso è quello di focalizzarsi proprio sulla possibilità di scambiare informazioni a livello di modellazione con formati di tipo aperto e proprio per questo ho scelto di introdurre questo argomento come una delle due parole chiave del titolo della mia presentazione. Due parole su Arpaceas, vedo volentieri tantissimi clienti in sala che ringrazio, abbiamo clienti numero notevolissimo con tre zeri dopo l'unità però vedo anche che ancora il potenziale che abbiamo per raggiungere altri è ancora alto quindi per chi non conosce Arpaceas aggiungo ancora qualche parole a quelle che il dottor Arona ha già gentilmente introdotto. Noi siamo un gruppo di progettisti, prevalentemente siamo ancora architetti, ingegneri strutturisti e architetti e abbiamo però sposato una missione un po' diversa che si discosta un attimo dalla progettazione che è quella di favorire la diffusione delle metodologie legate agli strumenti informatici. Poi col tempo questa missione appunto si è orientata dal qualche anno verso la metodologia BIM. Noi stiamo esattamente in mezzo tra i produttori e gli utilizzatori. Abbiamo ovviamente fatto delle scelte, cioè facciamo delle scelte riguardo agli software con i quali lavoriamo, cerchiamo dei partner e ovviamente li utilizziamo nelle attività di formazione, di avvio, di affiancamento, di consulenza che portiamo avanti. E ovviamente, come nel caso di questa interessantissima giornata, cerchiamo di promuovere insieme all'università questo improvement di tipo tecnologico. Lavoriamo con parecchie case di produttrici di applicativi software per l'ingegneria, arrivano dagli Stati Uniti, dalla Germania, dalla Corea, dalla Finlandia, dalla Norvegia e ovviamente anche qualcuno dall'Italia. E attraverso questi strumenti cerchiamo di indirizzare, ormai da alcuni anni, di far evolvere i nostri clienti verso metodologie più efficaci. Come keyword del BIM ho scelto queste quattro, che sono modellazione, processi, interoperabilità e informazione. Secondo me queste quattro parole descrivono bene quello che deve essere, quello che intendiamo con BIM. Quindi non soltanto la modellazione ovviamente, forse quello è stato il cerino iniziale, il momento iniziale è ormai però superato. Si è capito poi strada facendo che c'era molto di più. Al servizio di quali funzioni? Chiaramente di tutte quelle che sono coinvolte nella progettazione. Però a fianco a queste slide che magari avete visto anche più volte, che diciamo fanno capire che il tema del BIM deve coagulare delle soluzioni, coinvolgendo tutti gli attori della filiera, mi piace sottolineare due cose. Lo faccio attraverso queste due linee, quella rossa e quella gialla. Allora quella rossa ci dice che dobbiamo traghettarci verso il facility managers, cioè coloro che prendono in carico le strutture a opere di progettazione e costruzione concluse e che proseguono gestendo e mantenendo il bene. L'altra, quella gialla, che è una linea che si ritorna su se stessa, sta ad indicare che, sono abbastanza sicuro, confidente, che quando parecchi edifici, parecchie strutture avranno bisogno di essere re-ingenerizzate, dovranno essere riqualificate o progettate o gli spazi dovranno essere scomposti e ridistribuiti in un altro modo, il che capita dopo una certa quantità di anni, il BIM darà ancora un contributo, perché avendo a disposizione l'informazione in formato tridimensionale, questa sarà una cosa che aiuterà tantissimo. Oggi avere montagne di disegni che dopo un po' di anni risultano o introvabili o illegibili non aiuta questo concetto, ci obbliga a rilevare e rilevare. Invece il modello può, secondo me, traguardare un periodo più lungo e quindi essere interessante anche nei casi di ristrutturazione o di riqualificazione di determinati edifici. Gli strumenti di lavoro, di cui mi limito esclusivamente a cercare un attimino di classificarli, visto anche il tempo esiguo, sono sicuramente guide e procedure. Sono i cosiddetti BIM di authoring, cioè gli ambienti dove i modelli nascono, dove noi ci troviamo di fronte a uno spazio vuoto, tridimensionale o n-dimensionale e dove cominciamo a inserire le informazioni. Poi ci sono i BIM tools, che sono degli strumenti che stanno a contorno dei BIM authoring che utilizzano la modellazione e poi ci sono questi archivi common data environment su cui diciamo qualcosa poi nella slide successiva. Nell'ambito del BIM authoring è importante sottolineare e far capire che ci sono ambiti differenti, cioè non può essere al momento almeno tutto ricondotto ad un solo applicativo o ad un solo modello, perché sono modelli che si evolvono con skill professionali differenti ed esigenze differenti. Generalmente siamo soliti almeno individuarne almeno quattro. Quello architettonico, dove si parla di spazi, di materiali e di opere di facciata, sostenibilità e qualche altra attività legata alle attività architettoniche. Quello strutturale, dove si parla del cuore della struttura, quindi delle opere portanti o anche non portanti ma legate diciamo più alle strutture, quindi ai materiali come l'acciaio, il legno, il vetro e il cemento armato ovviamente e i prefabbricati. Quelli impiantistici, dove per impiantistica in questo caso intendo l'impiantistica al servizio dell'edilizia, quindi gli impianti di riscaldamento, ventilazione, illuminazione, elettrico eccetera. E poi anche il segmento infrastrutturale, come abbiamo appreso molto bene dalla presentazione precedente. È importante capire che sono ambienti diversi, non è pensabile che software unici possano reggerli tutti. Il BIM architettonico si basa su, o ha bisogno di certi ingredienti, gli elaborati grafici ancora presenti, le renderizzazioni per far capire dove si vuole arrivare, la computistica legata agli ambienti architettonici ha certe caratteristiche, che sono diverse da quelle strutturali. Le attività di space planning sono tipicamente svolte in modelli di tipo architettonico. Il BIM strutturale invece ha altre peculiarità, altre caratteristiche, per esempio gestisce gli oggetti di vari materiali strutturali, produce informazioni per la costruzione, quindi la prefabbricazione o l'assemblaggio in stabilimento per essere poi portati avanti sul cantiere. Ha dei link e dei collegamenti con il calcolo strutturale, quindi le modellazioni strutturali BIM sono perfette, adatte ad essere il punto di partenza per le calcolazioni, per i calcoli di tipo strutturale. Può essere utile per i cronoprogrammi della gestione dei cantieri. Il BIM ambientistico invece ha altre tipologie di necessità ed è gestito da persone che hanno un background professionale differente, quindi sono strumenti un attimino differenti. Ci sono le connessioni, i processi, tutte le valutazioni legate alle interferenze, la distinta dei materiali è completamente diversa da quella dei materiali strutturali. L'analisi dei dettagli, l'accesso alle banche dati sono cose che funzionano in modo abbastanza diverso rispetto a quanto non si possa trovare, riscontrare nei BIM architettonici e strutturali. E il quarto tassello, quello infrastrutturale, dove andiamo a descrivere opere che stanno sul territorio, con particolare anche attenzione a quello che sta sotto, quindi la stratigrafia dei terreni per le gallerie, le fondazioni ovviamente, le interferenze connesse, rappresenta un'altra frontiera del BIM dei Autori, cioè un'altra tipologia di ambiente e ha in genere delle caratteristiche differenti. Ci sono tutte le applicazioni che riguardano la gestione dei modelli digitali del terreno, l'analisi dei profili plano-altimetrici in verticale, in orizzontale, delle opere aviarie o ferroviarie, non so, per esempio, l'analisi di visibilità che si fanno in modo automatico, che è quella che vedete, dove per capire, diciamo, se da un certo punto della strada ne vedo un altro oppure no, sono ovviamente caratteristiche che non hanno, capite bene, non hanno nulla a che vedere, non so, con un impianto di ventilazione. Poi abbiamo invece una tipologia di software che va oltre il BIM Autori, che si chiama Code and Model Checking, che significa controllare le modellazioni dal punto di vista del loro contenuto e dal loro punto di vista dell'adeguatezza della progettazione nei confronti dei codici regolamentari. Allora questa è una fase in cui le modellazioni di BIM Autori si integrano tra di loro. Qui vedete quei tre modelli, sono tre modelli fatti con software diversi, applicazioni diverse, che vengono messi insieme per fare un'analisi conclusiva, un controllo conclusivo. Qui siamo ovviamente fuori dal BIM Autori, perché la modellazione è già fatta, siamo in una fase in cui controlliamo e verifichiamo. Si chiama Model Review, può essere per esempio un ottimo strumento per le riunioni progettuali interdisciplinari. E poi ho anche un ottimo strumento per la comunicazione, cioè il punto di partenza dove far partire le osservazioni che poi guidano e indirizzano il progetto in certe direzioni. E anche la rispondenza delle progettazioni ai vari codici architettonici, urbanistici, strutturali a cui deve sottostare. Oltre a questi esistono quelli che si chiamano BIM, che io classifico come BIM Tools and Management Tools, cioè tutti quegli strumenti informatici che utilizzano la modellazione. Allora proviamo a vedere se riusciamo a individuarne qualcuno guardando questa figura. La schedulazione dei tempi, i cronoprogrammi, la preparazione dei dati per tutti i processi di qualità, non so che controllano, per esempio mi viene in mente guardando l'immagine del saldatore. La produzione delle gabbie d'armature automatizzata in stabilimento, come vediamo da un'immagine che ho tratto da un produttore di macchine italiano. Il calcolo strutturale e l'analisi dei costi, dei tempi e della programmazione. Sono tutti tools che oggi si stanno muovendo, stanno evolvendo, perché mentre prima prendevano dati dai disegni, quando facevamo i computi, una volta facevamo passare i disegni e accumulavamo le informazioni di conteggio, di computo a lato, oggi questi programmi si stanno adattando ad essere collegati alle modellazioni 3D. Poi infine abbiamo questa parola che abbiamo già citato oggi, che si chiama Common Data Environment, che mi è piaciuta la definizione di Ida di prima, diceva hotel per files. Secondo me sta diventando qualcosa di più di un hotel per file, cioè non è soltanto un luogo dove far risiedere i files del progetto di vario tipo per condividerli con tutto il gruppo di progettazione, perché sta evolvendo e sta considerando non solo i documenti, ma anche i modelli e anche i database. Quindi sono tre gli ingredienti. L'evoluzione dei documentali, come li abbiamo chiamati per alcuni anni, è il Common Data Environment, ma non è più soltanto un archivio di documenti, ma è un sistema, un luogo interattivo dove le persone scaricano dati ma anche li catturano e che deve riuscire, sta riuscendo col tempo, a essere la sede non più soltanto di documenti ma anche di modelli e di database. Ora abbiamo un concetto fondamentale in tutto questo, l'interoperabilità, cioè dobbiamo riuscire a scambiare informazioni tra di noi e scambiare informazioni non più soltanto disegnando, plottando un disegno e mandandolo per email, ma dobbiamo passare in un colpo solo modelli che sono un aggregato di informazioni molto più interessante. Abbiamo due strade, una è una piattaforma chiusa oppure diciamo una piattaforma dipendente, scritta, redatta da un particolare progettista di tecnologie informatiche e un'altra invece è una piattaforma aperta e la seconda parte della mia presentazione serve a capire quali sono i valori della piattaforma aperta. Innanzitutto c'è Building Smart Internazionale, che già vedete come si colloca, International Home of Open Beam sta puntando dritto verso questa caratteristica. Building Smart produce gli standard IFC che sono, se li vogliamo sintetizzare, basati su dati, processi e termini. Quindi questi sono i tre tasselli con i quali Building Smart sta lavorando e sta progettando informazioni. Ovviamente ad ognuno di questi tre componenti corrisponde una particolare norma ISO, quindi sono tutte cose diciamo normate a livello internazionale e lo saranno anche a livello europeo. Building Smart condivide un po' quello che dicevo prima, cioè il fatto di suddividere il BIM per quanto riguarda almeno l'edilizia in queste tre parti, architettonico, meccanico e strutturale, e poi allargandosi eventualmente all'infrastrutture, fa anche un'attività di certificazione del software. Ci sono tantissime software house che parlano con il formato IFC perché è libero, quindi ognuno lo può fare, però ce ne sono alcune che hanno anche attivato delle certificazioni con l'organismo Building Smart. Il percorso di IFC è un percorso evolutivo, prevede un progetto, prevede uno sviluppo nel futuro. Come riportato, come preso questa slide dal capitolo, da una presentazione del capitolo canadese fatta da Thomas Leibich che ho conosciuto in sede Chen, dove si vede un po' l'evoluzione che avrà questo IFC. Guardate che oggi siamo ancora, non dico proprio all'inizio, ma siamo ancora nella fase iniziale. oggi la versione IFC che trovate nei vostri software si chiama 2x3, la versione 4 è già uscita, entrerà in funzione, credo, nel prossimo anno, ma il programma di sviluppo è ancora abbastanza significativo. Abbiamo parlato prima di questi tre tavoli dove si stanno scrivendo i componenti base di un possibile standard che faccia da riferimento per questo settore e adesso passiamo a quelli che secondo me sono i valori dell'open bin. Abbiamo ancora qualche minuto. Allora, innanzitutto, attivare tecnologie su formati aperti significa lasciare le porte aperte alle start-up tecnologiche, cioè vuol dire che siamo sicuri che ci potranno essere sempre novità dal fronte delle tecnologie informatiche perché inserirsi in questo contesto, se gli standard sono aperti, sarà sicuramente più facile. Se invece gli standard saranno quelli chiusi, quelli proprietari, ciò sarà un attimino inibito e non così facile. Poi abbiamo il fatto che il formato neutro, soprattutto per la pubblica amministrazione, è una forma di interoperabilità che dà garanzia di imparzialità nel controllo. Se io ho degli strumenti che automaticamente controllano dei dati, per quello che possono fare, ovviamente, è giusto che lo facciano su delle basi neutrali. È difficile controllare un modello da un applicativo prodotto dalla stessa ditta che ha fatto il modello, dal punto di vista informatico. La proprietà intellettuale. Moltissimi progettisti in corso di questi anni, al quale io ho detto, ho suggerito, ma se hai magari qualche difficoltà, se vuoi migliorare la comunicazione con i tuoi interlocutori, scambia il modello. Moltissimi mi hanno risposto, ma io non voglio scambiare il modello, perché nel modello sono contenute le mie personalizzazioni, le mie macro, le mie parametrizzazioni, e questo viene considerato un po' come un out personale, diciamo individuale, da non condividere. Ecco, se utilizziamo i formati IFC, ciò che viene scambiato non è tutto questo, ma è solo l'oggetto della relazione contrattualmente prevista. Quindi questa è una grossa motivazione che spinge all'utilizzo di formati di tipo aperto. IFC come garanzia di compatibilità libera. Certo, se io ho un deposito di formazioni progettuali in formato IFC, sono abbastanza sicuro, sicuramente più garantito che questi dati possano essere riutilizzati nel tempo. Se invece questi dati sono in un formato proprietario, probabilmente io per continuare ad utilizzarli nel tempo sarò costretto a mantenere quell'applicazione, perché poi diventa un motivo per agire in questo modo. Gestire dati in formato un out of IFC mantiene aperta nel futuro la porta del coinvolgimento sull'opera di professionalità orientata verso discipline tecnologiche diverse. Vuol dire che se io mantengo i miei dati in un formato proprietario, non posso far altro nel riutilizzarli che avere la disponibilità di professionalità che li sanno guidare. Se invece li tengo in un formato neutro, io anche in un futuro posso sfruttare delle competenze a cui oggi posso anche non pensare. banche dati e applicazioni server-based. IFC è un formato leggibile e controllabile da parte dell'autore stesso nel suo contenuto informativo completo. IFC è un file che voi aprite e leggete, non ci sono faccine strane, è un file di cui sapete perfettamente cosa c'è scritto. Si parla tanto di livello 3 del BIM, il livello 3 vuol dire, spiegato in parole un po' semplici, dover cedere il proprio modello ai cloud, alle banche dati esterne. Ecco, se questo viene fatto attraverso IFC, quantomeno io ho un controllo maggiore, sulla riservatezza conosco i dati che sto scambiando. Aumento dei costi progettuali. Con IFC il progettista può investire liberamente nella sola tecnologia che ritiene più soddisfacente tra quelle disponibili, quindi limitando i propri costi. Se invece io devo avere in ufficio, in studio, nella mia società, un esperto per ogni applicazione BIM, è ovvio che posso andare incontro a dei costi maggiori. Abbiamo la ottava. Le stazioni appaltanti, in particolare quelle pubbliche, per esplicite richieste di legge, devono proporsi in maniera tale da rendere accessibili le proprie gare a un numero quanto più ampio possibile di offerenti. Allora, se quindi prescrivendo un formato neutro, ovviamente io apro la possibilità di partecipazione alle varie professionalità. I modelli in formato IFC, in quanto basati su dati espressi in formato aperto, riducono le necessità di investimento nel futuro. Eh sì, perché se io ho i dati in un formato chiuso, qualche volta, come sappiamo, questo potrebbe essere oggetto di richieste di rinnovamento tecnologico, magari anche a pagamento, quindi anche oneroso. Quindi ci sono varie motivazioni, come vedete. Vediamo l'ultima. Il formato neutro IFC è controllabile da strumenti studiati allo scopo e meno soggetto a costituire motivo di diatriba tra committenza e appaltatore. Allora, guardate, andare a capire se un formato proprietario è fatto bene o no, contiene i dati o no, è scritto e rispetta i regolamenti delle prescrizioni iniziali, non è affatto semplice. Se lo facciamo invece su un formato aperto, probabilmente questa cosa è più chiara. Non soltanto noi, Arpaceas, parliamo di BIM, adesso senza entrare nel dettaglio perché i tempi sono stretti, ma tantissimi ricercatori riportano questo concetto di Open BIM nelle loro indicazioni. Qui abbiamo anche un articolo di Marco Perazzi su costruzioni metalliche. Addirittura il Building Information Task Group di cui oggi abbiamo già parlato, in una guida, cioè in una guida all'atto delle proprie specifiche, dice che negli EIRS, cioè nei documenti che i variatori si scambiano prima e durante il processo, should not dictate a software solution, cioè ci dovrebbero essere delle forme diciamo completamente aperte nella richiesta di scambio informazioni per le tre dimensioni. E avanti con lì. Ho finito, vi ringrazio.